Piero, senti, cosa propone l'associazione? Allora, l'associazione Intercultura, che ha aperto da pochi mesi un centro locale anche qui a Terramo, è un'associazione che propone un progetto educativo rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 17 anni attraverso gli scambi interculturali. Quindi un'esperienza importante per la conoscenza e l'educazione interculturale, ma anche un'esperienza di vita importante perché propone la possibilità di fare un anno di vita all'estero. E nello stesso tempo propone anche dei programmi di ospitalità per le famiglie italiane che possono a loro volta ospitare dei ragazzi che provengono da altri paesi stranieri e che vogliono venire in Italia a passare un anno della loro vita. Chiunque fosse disponibile e volesse partecipare ai programmi, a chi dovrà rivolgersi? Allora, il centro locale, come dicevo prima, è nato da poco e purtroppo siamo proprio agli sgoccioli perché domani, che è il 10 novembre, scadono le candidature per quei ragazzi che vogliono partecipare alle selezioni, perché i ragazzi verranno selezionati per essere inviati all'estero, alle selezioni per i programmi all'estero. I programmi all'estero sono o di un anno, o di sei mesi, o anche di tre mesi. Quindi chi fosse ancora interessato può andare sul sito di intercultura, www.intercultura.it e troverà tutte le informazioni necessarie e il modello per online, per iscriversi e candidarsi alle selezioni che appunto, ricordo, scadono domani 10 novembre.